ciao a tutti sono vasca della trading casa questo video che stai guardando è il primo di una lunga serie che se ne avrai voglia potrai continuare e guardare su questo canale e su tutti i nostri profili social che cosa puoi già guardare su questo canale youtube trading casa l'agenzia che non chiede l'esclusiva potrai trovare le video recensioni che chiediamo ai nostri clienti a seguito di ogni trattativa e video professionali degli immobili che abbiamo in vendita chissà potrai innamorarti a prima vista di una casa e decidere di venire in ufficio per acquistare la casa dei tuoi sogni ma non è finita qui perché da questo momento in poi avrai la possibilità attraverso i nostri video di conoscerci meglio di essere più consapevole di come vendere casa anche se poi vorrai farlo da privato e molti altri consigli utili nella gestione delle trattative di acquisto e di vendita per esempio hai problemi col mutuo affronteremo anche questa delicata questione insomma se vuoi farti una cultura generale sul vasto mondo immobiliare io e i miei colleghi cercheremo di rendere più divertente e leggeri temi affrontati speriamo che ci sosterrà in questa nuova iniziativa come beh innanzitutto iscrivendoti a questo canale e commentando i video così potremmo interagire al meglio se hai dubbi domande non esitare a commentare saremo felici di aiutarti altra cosa che puoi fare è mettere mi piace e seguire sulle nostre pagine social facebook instagram e linkedin dove potrai restare costantemente aggiornato sulla nostra attività e sulle novità di trading casa a presto